...sporti, omicidio colposo, stradale e plurimo sono le accuse più pesanti, formulate dalla Procura di Genova dopo tre anni di indagini sul crollo del ponte Morandi, a carico di 69 persone, tra manager, tecnici e dirigenti pubblici e privati, oltre che nei confronti di due società del gruppo Benetton, Autostrade per l'Italia e Spea, la controllata che aveva il compito di monitorare la struttura. È un passaggio importante, ma è il punto di vista della Procura, dello Stato, ora si apre una fase in cui le difese spiegheranno le proprie ragioni, ha commentato il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, parlando questa mattina con le agenzie di stampa. La molle di materiale raccolta dagli investigatori è immensa, centinaia di testimonianze e intercettazioni telefoniche, migliaia di file sequestrati da computer e telefonini, ma soprattutto 177 pagine di perizia tecnica firmata dal professor Pier Giorgio Malerba e dall'ingegner Renato Buratti, pagine dalle quali emergono responsabilità e negligenze di chi doveva vigilare e fare la manutenzione dell'infrastruttura. I periti certificano che per 50 anni i cavi che reggevano il ponte non hanno ricevuto alcuna manutenzione. Parlano di incoscienza, negligenza, immobilismo e di comunicazioni incomplete, equivoche e fuorvianti, ma soprattutto confermano che chi doveva intervenire conosceva la gravità in cui versava il viadotto e non ha eseguito la manutenzione necessaria per non contravvenire alla politica aziendale dei massimi profitti risparmiando sui costi.